Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Ed eccoci ad una nuova TBR, come sempre all'inizio del mese abbiamo le nostre TBR in cui andiamo a vedere insieme tutto quello che ho intenzione, che spero di leggere nel mese corrente, in questo caso ovviamente febbraio, delle TBR che come dico sempre molte volte non rispetto, molte volte vanno male di mia spontanea volontà o per altre interferenze del caso, ma che comunque mi sono davvero molto 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 utili per tenere traccia insomma di quello che voglio leggere veramente e sono per me una linea che mi aiuta a capire effettivamente dove voglio andare durante il mese con le letture e poi ovviamente capita di non sentirsi molto desideroso di leggere un determinato libro quindi si sceglie altro che inizialmente non era in TBR, uscite che non si conoscevano e che appunto entrano di forza in TBR insomma tante motivazioni diverse che potrebbero portare queste TBR che mi faccio mensilmente a esplodere, implodere però va bene così, comunque ripeto per me è una cosa davvero molto molto utile anche se non si rispettano non so perché questo people iniziale però così, per dare un po' un pizzicorio, una freschezza diversa a queste TBR comunque dicevamo seconda TBR del 2023 e io già sono indietro con la TBR di gennaio infatti sicuramente purtroppo a gennaio ho tralasciato alcune cose che desideravo leggere con impazienza per esempio Hellbent che purtroppo non mi sono sentito di affrontare durante gennaio nonostante sia un libro che devo leggere per forza, voglio leggere per forza quindi ecco ci sono delle uscite come appunto Hellbent oppure non lo so anche Mare della Tranquillità o altri che ho inserito nella TBR di gennaio e che purtroppo non ho letto e che mi riporto ovviamente dietro come strascico anche in questa TBR però ci sono dei libri che durante questo mese avranno sicuramente la precedenza ci sono delle uscite che mi interessano davvero tanto e che quindi ovviamente avranno un po' la precedenza anche sui libri che avevo messo in TBR a gennaio detto questo andiamo a vederli insieme il primo libro che inserisco in questa TBR e che sono sicuro comunque sarà molto veloce ma in verità la maggior parte delle letture che ho inserito in questa TBR le immagino come letture molto fresche in alcuni casi, molto veloce, molto dinamiche che quindi spero in qualche modo sappiano essere davvero scorrevoli e la prima è Le Sorelle Hollow si tratta di un horror thriller fantasy paranormal ovviamente che secondo me potrebbe essere davvero molto interessante è uscito recentemente in Italia con questa copertina che purtroppo non rende giustizia a quel capolavoro che era la copertina originale ma il contenuto sembra essere davvero particolarmente interessante racconta la storia di queste tre sorelle una di queste tre sorelle scompare misteriosamente e la nostra protagonista Iris, la più piccola, comincerà a indagare su questa scomparsa e soprattutto su quello che è successo a queste tre sorelle da bambina infatti c'è questo misterioso evento di cui nessuno appunto ha memoria che ha lasciato su tutte e tre delle cicatrici identiche misteri su misteri molto interessante e ovviamente appunto mi piacerebbe leggerlo e sicuramente lo leggerò mi sembra una lettura veloce e quindi ne parleremo insieme comunque quando lo leggerò poi se c'è una certezza ce ne sono veramente molto poche nella vita in generale nelle TBR soprattutto però se c'è davvero una certezza in questa TBR di febbraio 2023 è Fuoco dal Cielo di Mary Renaud ovvero il primo libro della trilogia su Alessandro Magno mai vi ho fatto una terza così e su questa trilogia che io vi giuro se mi delude potrei rimanerci seriamente male è uscita il 31 di gennaio l'intera trilogia appunto per Oscar Volt con queste nuove edizioni quindi sicuramente al 100% cioè appena io avrò la copia fisica qua sulle mie mani comincerò a leggerlo leggerò Fuoco dal Cielo che è il primo libro della trilogia e poi se mi piacerà come spero che appunto sia leggerò il secondo libro e il terzo quindi li metto tutti e tre all'interno della TBR principalmente il primo ma vediamo se sono preso bene se sono scorrevoli se non sono effettivamente pesanti però li immagino anche in questo caso comunque come delle letture molto veloci e molto scorrevoli spero che il contenuto comunque sia adatti ecco a tutto quanto quindi sì la trilogia di Alessandro per forza doveva esserci in questa TBR è sicuramente una delle cose che sto aspettando di più per questa prima parte del 2023 e quindi TBR immediata vedremo se con tutta la trilogia ho il primo libro staremo a vedere anche questa è una delle certezze di febbraio anche perché ho intenzione comunque di parlarne e si tratta di Dark Rise di CS Packard il nuovo libro della Packard finalmente arriva anche in Italia e vedremo che cosa ne uscirà fuori io sono sincero ho letto tanti tanti pareri e recensioni su questo su questo primo volume ovviamente me ne ha parlato spesso anche Elna del canale appunto Miss Nerling che vi consiglio di andare a vedere e so non essere un libro eccezionale ma la trama non è eccezionale di per sé quindi non immaginavo grandi cose però sicuramente lo leggerò sicuramente lo leggerò gli darò un'opportunità anche in questo caso appena ce l'avrò tra le mani sarà una delle prime cose che leggerò come vi dicevo insieme a Fuoco del Cielo è una delle cose che attendo di più per febbraio e quindi vedremo che cosa succederà aspettatevi dei video anche sugli altri social trovate il link qua qua da tutte le parti il nome è sempre lo stesso e vedremo vedremo anche in questo caso che cosa ci riserverà poi il prossimo libro finalmente l'avrò inserito in tante TBR in questi ultimi anni ma mai effettivamente poi si è concretizzata questa mia volontà ovvero quella di leggere l'apprendista assassino di Robin Hope come dico molto spesso in verità per me sarebbe una mezza di lettura perché io ho letto una buona parte dell'apprendista assassino ma era una lettura che avevo diciamo un po' di sottofondo nei momenti in cui non avevo niente da fare quando ero in giro alla posta eccetera eccetera prendevo il telefono e leggevo qualche pagina quindi è stata una lettura davvero molto discontinua una lettura che purtroppo non mi ha permesso di apprezzare al 100% il contenuto e di entrare effettivamente nell'ambientazione costruita dalla Hob di cui ho ricordi veramente molto vaghi tra l'altro perché ormai sono passati 4-5 anni dalla semilettura dell'apprendista assassino quindi lo andrò ovviamente a rileggere e spero davvero possa regalarmi tanto io ho altre aspettative nei confronti di questa della saga della Hob e finalmente appunto la leggerò questo febbraio non può essere altrimenti devo assolutamente leggerla non posso rimandarla ulteriormente quindi Robin Hood TBR di febbraio altro libro che inserisco è Membrana che ho appunto acquistato in queste ultime settimane un libro molto veloce che devo dire a me interessa particolarmente purtroppo non ho la mia copia bellissima qua con me con questa copiattina incantevole però appunto è una delle letture che sicuramente farò durante febbraio perché si tratta di un libro molto molto veloce quindi sarà un inframezzo tra una lettura e un'altra i prossimi titoli che inserisco all'interno di questa TBR sono un po' dei desiderata per appunto febbraio sono dei titoli che voglio leggere ma che rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso non avranno la precedenza nonostante magari invece mi scoppia la voglia refrenabile di iniziare questo titolo piuttosto che un altro e quindi entreranno ufficialmente appunto nei libri da leggere comunque sta di fatto TBR il primo è Little Big tra l'altro con questa edizione di Oscar Volte che io trovo bellissima è un piccolo gioiello mi piace da morire tutto quanto cioè il lavoro grafico eccezionale i Ghirigori Oro cioè è veramente molto 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 bella come edizione libro che mi spaventa un po' devo essere sincero perché è piccolissimo cioè è piccolo il fonte di questo libro è minuscolo non c'è praticamente uno spazio bianco tra l'altro anche all'interno veramente molto molto bello è un libro che voglio assolutamente leggere assolutamente leggere che mi intriga da morire cercherò appunto di leggerlo il prima possibile non vorrei portarmelo a lungo durante l'anno perché ci tengo davvero a fare questa lettura non so se riuscirò a febbraio perché comunque la TBR è parecchio corposa e questo libro è particolarmente corposo però comunque ce lo inseriamo il prossimo libro che inserisco in questa TBR è un libro che dà il via un po' a un mio obiettivo nel 2023 che è in verità un obiettivo che mi porto dietro da diversi anni e che purtroppo rimando sempre ovvero quello di ricominciare a leggere classici che è una cosa che io in questi ultimi anni purtroppo ho perso drasticamente ci sono state poche letture che ho fatto in questi ultimi 3-4 anni che appunto possono essere considerati classici della letteratura ma nel 2023 mi piacerebbe appunto ricominciare un po' a ributtarmi su questo tipo di libri e l'idea è quella di seguire in qualche modo il gruppo di lettura matonazzi inglesi di Ilenia Zodiaco primo perché la lettura inglese a me piace particolarmente all'interno della lista appunto del gruppo di lettura di Ilenia ci sono dei libri che io in verità ho letto come appunto il primo che inserisco che è Orgoglio e Pregiudizio ma che comunque vorrei rileggere sarebbe tipo la quarta volta che io rileggo Orgoglio e Pregiudizio però sarebbe la prima volta che lo rileggo con una coscienza e un mirco molto cresciuto e molto diverso ormai è passato tanto tempo dall'ultima volta che ho letto Orgoglio e Pregiudizio che è sempre stata una lettura che io ho sofferto io adoro la Austin però Orgoglio e Pregiudizio è uno dei suoi libri che ho trovato meno in qualche modo accattivante per quanto mi riguarda ce l'ho sempre sofferto tanto non capisco per quale motivo poi ho amato Emma ho amato Persuasione Not Tung and Happy ho amato davvero praticamente tutti i libri letti della Austin ma Orgoglio e Pregiudizio mi è sempre rimasto qua non so per quale motivo quindi vorrei rileggerlo staremo a vedere lo inserisco appunto in questa TBR magari sarò effettivamente preso bene e lo leggerò vedremo come come andrà quindi riprendo a leggere i classici come buon proposito del 2023 partendo appunto da Orgoglio e Pregiudizio e concludiamo poi con Ray Verar che è la nuova uscita della Fazzi un libro che sembra essere molto molto interessante dovrebbe essere il primo di una di logia con una trama molto forte con delle tematiche altrettanto forti che mi incuriosisce tantissimo in verità è un'uscita che mi aveva già interessato molto all'epoca quando venne pubblicata all'estero e finalmente arriva in Italia è un bel tomone quindi è un libro effettivamente molto impegnativo che non so se riuscirò a leggere a febbraio però comunque lo inseriamo all'interno della TBR e vedremo che cosa succederà comunque ho delle aspettative piuttosto corpose per questo libro perché sembra davvero una lettura molto molto valida quindi staremo a vedere in tutto questo ho dimenticato di inserire in questa TBR una delle uscite più importanti per me in questo febbraio 2023 ovvero La legge dell'Elande di Brandon Sanderson il primo libro della seconda era di Missborn che ovviamente ha precedenza assoluta su tanti titoli di cui abbiamo parlato benissimo questa era la mia TBR per febbraio una TBR molto più confusa e caotica del solito non so che cosa mi sia successo perdonatemi comunque sono molto curioso di sapere come sempre anche la vostra TBR quali sono i libri che comunque avranno la precedenza su tutto quanto quello che vi interessa maggiormente leggere a febbraio io come sempre spero che questo video vi abbia tenuto con piagnia vi abbia divertito magari vi abbia anche ispirato a leggere qualcosa vi aspetto nei commenti come al solito e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti